E ciao a tutti e bella ragazzi, lo so è da tantissimo che non facevo un video perché ho veramente tantissimi impegni, sono molto aumentati e però vi volevo qua portare con un video di Roblox proprio su Bloxfruit appunto su Bloxfruit, ditemi anche se vi piace l'idea di portare Roblox perché comunque sia è diciamo un contenuto nuovo perché porto Minecraft io per la maggior parte e che dirvi, cercherò di fare un tutorial su come aprire qua questa porta sotto la jungle e prendere il boss e prendere la spada, questa qua e cercherò di essere il più restrittivo possibile e il più chiaro possibile, il più restrittivo e il più chiaro possibile scusate ho avuto un attimo di vuoto allora innanzitutto il primo step è premere questo pulsante, è normale che sia spento, va bene andare di qua questo qua pure lo dobbiamo premere così fate due salti se lo volete prendere e ecco, preso questo da qua dobbiamo andare a quest'albero è normale che siano spenti, ce lo tengo a dire poi prendete il terzo e poi prendete il quarto quello là allora da qua ragazzi questo così abbiamo completato il primo step ora dobbiamo andare precisamente qua da quello là che dà le missioni qua poi si sarà liberata tipo una cosa andiamoci ok ce l'abbiamo fatta ci sarà anche la cassa che io vi consiglio di prendere ora oddio scusate si vede un po' male prendete qua la torcia la prendete vabbè a me ora non me la fa prendere non so perché però voi prendetela da qua dovete prendere la torcia semplicemente e andare all'isola del deserto perché io avendolo già fatto a me non me lo fa più prendere quindi è diciamo normale da qua ora andate alla zona della desert se non sapete qual è la zona della desert dovete essere appunto per fare questa cosa minimo livello 200 ok perché il boss appunto è di livello 200 allora farò un piccolo taglio qua per semplicemente non farvi annoiare eccoci qua da qua nella desert dobbiamo andare in questa casetta qua proprio questa qua andati in questa vediamo che la porta è vuota con la torcia che abbiamo bruciamo qua bruciamo questa 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 parte qua cliccandoci sopra qua poi avremo il calice prendiamo il calice che è vuoto ora perfetto prendiamo questo calice e poi dobbiamo andare alla snow diciamo dove c'è lo yeti l'isola di livello 90 fino al 110 ok pure qua vi farò un piccolo taglio perché se no pure voi vi annoiate ok ragazzi eccoci arrivati un villaggio congelato andiamo come preferite e dobbiamo andare in questa piccola caverna qua perfetto ora noi dobbiamo prendere quando è dobbiamo prendere il nostro calice in mano quindi lo prendiamo e quando vi mettete proprio qua sotto il calice si deve riempire con l'acqua riempito il calice con l'acqua andate qua sopra esattamente in questa casetta dove c'è quest'uomo che si chiama sick man lo aiuti ok io già l'ho aiutato e praticamente lo aiuti diciamo con questo calice il calice poi ovviamente sparirà perché l'avete usato e ora invece dobbiamo andare l'isola dove ci sono i pirati dove c'è il boss bobby ora ve la faccio vedere ragazzi arrivati al villaggio dei pirati villaggio pirata andiamo da da quest'uomo che si chiama rich man appunto lui gli gli parliamo e vi dirà di fare questa missione questa missione consiste di andare in quest'isoletta che si trova proprio dietro quest'isola andiamo che è quest'isoletta piccolina dove c'è questo boss di livello 120 che dovrebbe essere il padre che è diventato avaro una roba del genere però a noi principalmente non ci interessa e lo sconfiggiamo e andiamo contro tanto ci vogliono due secondi ecco allora ora ucciso lui dobbiamo riandare sempre dall'uomo ricco quindi dal rich man e ora lui ci darà una reliquia ovviamente prima ci parliamo e poi ci darà la reliquia quindi gli andiamo ci parliamo opla ecco e ci darà questa reliquia questa qua ora semplicemente dobbiamo riandare alla jungle che anche per questo vi farò un taglio ok ragazzi alla jungle andiamo proprio in questa roccia saliamo questa scalinata e vediamo qua questa parte che voi ora non la vedrete vuota quando è usiamo la reliquia qua ci clicchiamo ci andiamo sopra e si aprirà la porta appunto aperta questa porta poi dovremo uccidere il boss per ottenere questa spada che se volete scrivetemelo qua sotto nei commenti vi farò uno showcase ovvero cioè vi mostrerò tutte le abilità quindi ucciso otterrete questa spada che ve la dà semplicemente alla prima botta credo ecco qui ragazzi è finito il tutorial spero di esservi stato d'aiuto mi raccomando iscrivetevi al canale per darmi supporto e anche perché è gratis lasciate un bel like se vi è piaciuto il video attivate la campanellina per ricevere le notifiche di quando pubblicherò i video e si spera che li pubblicherò entro tra una settimana e questo appunto è il tutorial qualsiasi dubbio sto nei commenti quindi qualsiasi dubbio abbiate scrivetemi nei commenti e per qualsiasi altro tutorial scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao